Musica Ciao amore Buongiorno, buongiorno, buongiorno Siamo appena usciti da scuola E oggi è un giorno speciale perché oggi andiamo a tagliarci i capelli Perché questo capellone qua se li ha lunghissimi Anche Seba? Anche Seba, sì Sia Ricky che Seba Il Seba per la prima volta va a tagliarsi i capelli dal parrucchiere per i bimbi Musica 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 C'è qua questo visino da scimmietta Musica Allora, per oggi ho preso appuntamento per Ricky e Seba in un parrucchiere un po' lontano Quindi nell'altra città, Telde, dove abbiamo abitato per un mese quando ci siamo appena trasferiti qui Ed è proprio un parrucchiere solo per bambini, non ci sono adulti E in Italia mi sembra di non averli mai visti, però fatemi sapere voi se esistono o non esistono Perché magari sto dicendo una fregnaccia, fregnaccia si dice Ma io negli anni 80 andavo dal killer sotto casa mia che erano proprio quelli che tagliavano da 2 anni a 120 anni E mi faceva sempre piantere Ecco come ho detto Sì No, proprio c'è con i bambini A meno di 6 anni un pochino di patto ci vuole, dai Sì Abbiamo recuperato anche quello piccolino Cambiato Impaninato Perché se non gli dai il panino impazzisce Perché è pazzo È pazzo per il pane Non so da chi abbia preso Oh 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 Li ho vestiti in tinta sul giallo, non uguali, ma in tinta Gli abbiamo dato il pane perché sennò impazzisce se non gli diamo il panino Vero Sebastian? Senza pane? E se lo mangia tutto eh Se lo mangia tutto adesso andiamo a tagliare i capelli Io invece ho appena finito di registrare un video Come potete vedere dal casino che c'è dietro E ho registrato una haul di Primark Mi sono appiccicati tutti i capelli Mamma quando apriamo la oschetta quella nuova Quale vaschetta? Quella perché fai massaggi Ah la vaschetta per la pedicure Andiamo a tagliare i capelli? No Come no? Sì Sei contento? Sì Lasciamo in pace Ho registrato e non ho avuto la decenza di mettere a posto niente Perché adesso dobbiamo andare via Io tra l'altro vi ho fatto vedere anche questa maglietta stupenda Una maglietta insomma Non so quanto possa coprire Però è molto carina ho fatto un affare Un affare pagato a 5 euro Ma tra l'altro voi l'avete già vista Perché l'ho presa nell'ultimo Family Vlog Che Ricky stava guardando nella borsa che cosa ci fosse E l'avete già vista Ho finito il libro Davvero? Sì ho vinto uno Bravo amorino È che sono 23 pagine Poi ne hanno 55 Che bravo Ma questo è il libro della scuola? Sì Super bravo amore Fa vedere Wow E hai fatto tutti gli esercizi? Sì tutti Ma li hai fatti da solo? Mi dicevano come si faceva all'inizio Chi è che te lo diceva? Omaida La tua maestra? Sì È brava la tua maestra? Sì Che bravo amore Mi ha portato il pane Sì Andiamo Adesso andiamo Amore Ci sembra che se non gli dai il pane impazzisce Eh sì Questa è la vasca che ho preso l'altro giorno Di cui parlava Ricky Che è la vasca per fare la pedicure L'abbiamo presa da Lidl Ciao Non si può stare neanche un secondo Ma amore La vogliamo La vogliamo noi Ma non è un gioco C 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 l'amore scherzo dell'ascensore che andiamo subito lui il primo curarsi prima mascherina se non lo può anche ammettere sicuro un bel petto il piccino di taglia nei capelli che faccia che asero grandi cosa fa tanto restano quasi per i video giochi ma per te una pacchia venire dal parrucchiere cioè lui si diverte più che stare a casa perché a casa il tablet non lo usa infatti è due giorni che dici ah sì sì allora lì il tablet lo posso usare allora lì lo posso usare ti piace il tablet a mare? non mi risponde neanche poi si chiede ma perché non me lo fate usare? è il turno del grande ciao Ricky ciao 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 grazie grazie ciao 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 seba non si fa vai non toccare vieni qua vieni vieni qui vieni no 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 seba fa vedere che bello che sei stai benissimo ah sì aspetta che andiamo a sistemare la vasetta che strano vederti con i capelli così corti si guarda vieni a mare guarda guarda come si dice no come si dice grazie sono levo per un calore si grazie è il diploma è il diploma della prima della prima rasatura ma il signore dov'è? è perché tu lo hai fatto in Italia il tuo amore te l'ha fatta la mamma che bello grazie che bello è tuo bruttino vuoi? guarda questi di chi sono? sono le gambelle da mamma no vieni porta la palla fissato con la palla fissato fissato come è strano vederlo con i capelli corti ma che strano passa la palla adio passa la palla impazzisce impazzisce eh sì passa la palla butta butta ah infatti abbiamo anche il pigiamino in tinta In tinta Vieni qua Ciao Giulino E qua c'è il mio bambino Che sta attaccando Tutte le figurine Dell'Inter Ma questo amore è l'album nuovo? Sì Sai che prima ho avuto la 199 E poi la 200 l'ultima dell'album Wow e quante te ne mancano? Tante Wow E come si chiama questo giocatore qua? Io li sono Tra l'altro si chiama come tuo fratello? Es Posto Esposti Esposito Bravo il mio amore Che ha 6 anni sa già leggere 184 E 184 Strano Dove sono i cappelloni del mio bambino? Dove sono? Sono finiti di per terra Ehi attento Niente Diamo buonanotte Buonanotte Good night And good luck Ehi attento Buonanotte Buonanotte Grazie a tutti.